Buongiorno, è necessario continuare nel solco degli aggiornamenti sull'evoluzione della pandemia nel nostro comune che tende a peggiorare sensibilmente con un innalzamento preoccupante dei casi di positività, che passano da 45 a ben 68. Non è possibile ricostruire invece l'elenco di coloro che sono sottoposti, in quanto con tanti stretti, alle misure di quarantena. Tuttavia è possibile sottostimare questo elenco e ipotizzare che siano almeno 200 le persone che sono in questo momento nelle proprie case e che hanno interrotto i rapporti sociali. Nella giornata di oggi, 31 dicembre, entra però in vigore il nuovo decreto legge che il governo Draghi ha approvato nella giornata di ieri, pubblicato ieri nella gazzetta ufficiale e proprio questa mattina è stata pubblicata dal Ministero della Salute una circolare che disciplina, regolamenta e comunica delle modifiche significative al regime degli isolamenti e delle quarantene, con una modificazione dei tempi di interruzione dei rapporti sociali e quindi dello stare a casa per quanti sono positivi o contratti stretti e questo provvedimento è stato fatto per evitare la paralisi del sistema paese. Cercherò brevemente di distinguere le varie casistiche, riservandomi poi di pubblicare integralmente il contenuto di questa circolare e semplificare il più possibile i messaggi, fermo restando che rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento, così come abbiamo fatto nel momento in cui la pandemia ha raggiunto l'apice della sua aggressività in questi ultimi giorni. Misura dell'isolamento che è prevista esclusivamente per i casi positivi. Coloro che sono positivi e che hanno eseguito tre dosi oppure che hanno eseguito due dosi entro i quattro mesi precedenti, ovvero i 120 giorni precedenti, riducono il periodo dell'isolamento da 10 a 7 giorni. Al termine di questo periodo saranno tenuti ad eseguire un test rapido molecolare e se l'esito sarà negativo potranno ritornare nella vita della comunità. Coloro che invece non sono in questa condizione ma hanno due dosi effettuate oltre i quattro mesi precedenti saranno tenuti ad osservare un periodo di isolamento pari a 10 giorni ed eseguire allo stesso modo un test molecolare o rapido al termine del periodo che, se risulterà negativo, consentirà la ripresa delle relazioni sociali. Un po' più complicata invece è la casistica dei casi cosiddetti contatti stretti. Ci sono almeno tre categorie importanti che dobbiamo tenere in considerazione. La prima riguarda i soggetti non vaccinati che hanno fatto una sola dose o che hanno fatto la seconda dose entro i 14 giorni. Questi soggetti saranno tenuti ad un periodo di quarantena, cioè di isolamento nella propria abitazione, per 10 giorni e al termine di tale periodo anche essi dovranno eseguire un test rapido molecolare che, se risulterà negativo, consentirà il ritorno in società. La seconda categoria riguarda i soggetti che hanno due dosi effettuate da più di 120 giorni, quindi da oltre quattro mesi, che siano dotati di un green pass in corso di validità e che siano anche asintomatici. Questi soggetti dovranno osservare un periodo di interruzione dei rapporti sociali per cinque giorni. Al termine del quinto giorno, sempre sei asintomatici, potranno eseguire lo stesso test rapido molecolare e riprendere i rapporti sociali. Ultima categoria è quella dei soggetti asintomatici che abbiano tre dosi oppure che abbiano effettuato due dosi entro i quattro mesi precedenti. Per questi soggetti non è prevista più la quarantena. Potranno riprendere la vita sociale, ma saranno obbligati per i dieci giorni successivi all'avvenuto ultimo contatto ad indossare la mascherina FFP2 e poi all'adozione della cosiddetta autosorveglianza, che consiste nell'esecuzione di un tampone al quinto giorno dall'ultimo contatto se asintomatici e se questo tampone risulterà negativo potranno ritenersi liberi. Invece, se nell'arco dei cinque giorni successivi dovessero manifestare sintomi, sono obbligati ad eseguire immediatamente il tampone e rivolgersi alle autorità mediche competenti. È molto difficile e variegato, come abbiamo visto, quello che è il contenuto di questa circolare ministeriale e quindi è importante consultarsi sempre con i propri medici. Immagino che la modificazione introdotta da questo nuovo decreto legge porterà molte persone che in questo momento sono a casa a uscire e ritenersi libere. Allora anche qui corre l'obbligo di invitare tutti i costoro a comunicare all'indirizzo di posta elettronica che pubblicheremo sul testo di questo messaggio l'interruzione dell'isolamento o della quarantena e il ripristino della raccolta differenziata dei rifiuti come da servizio precedentemente fornito. Non sono delle bellissime notizie quelle che naturalmente ho comunicato. Metà del paese risulta essere bloccato, basta percorrere una delle qualunque viabilità urbane o passeggiare per piazza in piazza per rendersi conto della scarsa circolazione delle persone. Speriamo e raccomando che tutti coloro che sono positivi o contatti stretti così come definiti nella scheda che poi pubblicheremo rimangano a casa e osservano con scrupolo e rigore quelle che sono le procedure. Perché ricordiamoci che tutelare gli altri significa avere rispetto per gli altri e prima ancora per se stessi. Con queste parole concludo il video messaggio e accompagno la fine del 2021 con gli auguri che vogliono essere piuttosto un auspicio perché il 2022 sia un anno felice, un anno più prospero e un anno migliore soprattutto sul piano della pandemia da cui vogliamo tutti uscire. Faccio a tutti i concittadini e alle loro famiglie gli auguri di buon anno nuovo. Arrivederci a tutti.